una calumnia cecov l'insegnante di calligrafia serghei capitolice kineyev dava in sposa la sua figliola natalia all'insegnante di storia geografia ivan petrovic lociadinic il trattenimento nuziale filava liscio come un olio in sala si cantava si suonava si danzava per le stanze come invasati correvano avanti e indietro i domestici presi a nolo al circolo in marsine nere e cravate bianche sudice c'era chiasso e vocio l'insegnante di matematica tarantulof il francese padequa e il più giovane revisore della corte dei conti jegor benedictis msda seduti in fila sul divano affrettandosi e interrompendosi a vicenda raccontavano agli ospiti dei casi di seppellimento di vivi ed esprimevano la loro opinione sullo spiritismo tutti e tre non credevano nello spiritismo ma ammettevano che in questo mondo ci sono molte cose che la mente umana non penetrerà mai in un'altra stanza l'insegnante di letteratura dodonski spiegava agli ospiti i casi in cui la sentinella ha il diritto di sparare su chi passa le conversazioni erano come vedete paurose ma assai piacevoli dal cortile curiosavano alle finestre delle persone che per la loro condizione sociale non avevano il diritto di entrare dentro a mezzanotte in punto il padron di casa a kineyev andò in cucina a vedere se tutto fosse pronto per la cena in cucina dal pavimento al soffitto era sospeso un fumo costituito dagli effluvi d'oca d'anatra e numerosi altri su due tavole erano distribuiti e disposti in artistico disordine gli attributi del servizio ad antipasti e aperitivi intorno alle tavole si affaccendava la cuoca marfa una donna rossa con doppio ventre serrato alla cintola fammi un po' vedere lo storione matushka disse a kineyev fregandosi le mani e leccandosi le labbra ma che odore che zaffata mi mangerai addirittura tutta la cucina su dunque fa vedere lo storione marfa si avvicinò a un panchetto e cautamente sollevò un foglio di giornale unto sotto questo foglio in un piatto enorme riposava un grosso storione in gelatina screziato di capperi olive e carotine a kineyev guardò lo storione e fece un ah il viso gli raggiò gli occhi si strabuzzarono egli si chinò ed emise con le labbra il suono di una ruota non lubrificata dopo un po' di sosta schioccò le dita dal piacere e fece un altro schiocco con le labbra oibo il suono di un ardente bacio con chi ti stai qui baciando barfuscia sudì una voce dalla stanza attigua e sull'uscio comparve la testa rapata dell'aiuto dei sorveglianti di classe wankin con chi facevi questo? ah 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 molto piacere con serghiai capitoniz bel nonno non c'è che dire un tatatat con una polacca donna io non ho baciato nessuno si confuse a kineyev chi te l'ha detto? stupido sono io che ho schioccato le labbra riguardo a proposito del piacere della vista del pesce raccontalo ad altri la faccia di wankin fece un largo sorriso e scomparve dietro l'uscio a kineyev arrossì il diavolo sa quel che è pensò ora andrà il mascalzone a far pettegolezzi mi famerà per tutta la città l'animale a kineyev entrò timidamente in sala e guardò in tralice da un lato dove era wankin? wankin era accanto al pianoforte e piegatosi con bravura vi spiegliava qualcosa alla cognata dell'ispettore che rideva di me sta parlando pensò a kineyev di me che possa scoppiare e quella ci crede ci crede? ride oh dio mio no così non si può lasciare la cosa no bisogna fare in modo che non gli credano parlerò con tutti loro e gli farò fare la figura dell'imbecille pettegolo a kineyev si grattò e senza cessare di confondersi si avvicinò a padequa anzi ero in cucina e davo disposizioni riguardo alla cena disse gli al francese a voi lo so piace il pesce e io ci ho vatenca un certo storione lungo due arcini sì a proposito già me ne dimenticavo in cucina poco fa con quello storione un vero aneddoto entro poco fa in cucina e voglio osservare le vivande guardo lo storione ed al piacere per l'odore piccante faccio uno schiocco con le labbra ma in quel momento entra un tratto quest'imbecille di vankin e dice oh oh vi baciate qui con marfa con la cuoca che cosa è andato a pensare lo sciocco quella donna non ha né grazia né garbo somiglia a ogni sorta ad animali e lui baciarla stravagante che stravagante domandò Tarantulof che sarà avvicinato ma ecco lì vankin entro in cucina e raccontò di vankin mi ha fatto ridere lo stravagante ma secondo me è più piacevole baciare un cam barbone che marfa soggiunse a Kineyev che si voltò a guardare e vide dietro a Semzda stiamo parlando di vankin gli disse uno strambo entra in cucina mi vede al fianco di marfa e avanti a immaginare varie facezie che cosa dice vi baciate ubriaco con me gli era parso e io dico bacerò piuttosto un tacchino che marfa e poi ho anche moglie dico imbecille che sei mi ha fatto ridere chi vi ha fatto ridere domandò il prete insegnante di religione avvicinandosi ad Akineyev vankin me ne sto sapete in cucina e guardo l'ostorione e così via di lì a forse mezz'ora tutti gli ospiti già sapevano la storia di vankin e dell'ostorione adesso glielo racconti pure pensava Akineyev fregandosi le mani racconti pure lui comincerà a raccontare e io subito smettila imbecille di dir sempiagini sappiamo già tutto e Akineyev si tranquillizzò al punto che dalla gioia vuotò quattro bicchierini di troppo accompagnati dopo cena ai giovani sposi nella loro camera egli si ritirò e si addormentò come un bimbo di nulla colpevole e il giorno dopo più non ricordava la faccenda dell'ostorione ma ahimè l'uomo propone e Dio dispone la malalingua aveva fatto la mala opera sua e nulla lo vò ad Akineyev la sua astuzia dopo una settimana giusta e precisamente il mercoledì dopo la terza lezione mentre Akineyev stava in mezzo alla sala degli insegnanti e parlava delle viziose tendenze dell'allievo Visekin gli si avvicinò il direttore e lo chiamò in disparte ecco che c'è Sergei Kapitonis disse il direttore scusate non è affermio ma tuttavia devo farvi capire è mio dovere vedete corrono voci che voi vivete con quella con la cuoca non è affermio ma vivete con lei baciatevela fate quel che volete soltanto per favore non così pubblicamente vi prego non dimenticate che siete un educatore Akineyev si sentì gelare e restò di stucco come punto da tutto una sciame d'api ad un tempo e come annaffiato con acqua bollente andò a casa andava a casa e gli pareva che l'intera città lo guardasse come se fosse spalmato di catrame a casa lo attendeva un nuovo guaio come va che non ingozzi niente gli domandò a pranzo la moglie a che cosa ti sei messo a pensare pensi agli amoretti senti la mancanza di marfusca tutto mi è noto ma ometto nella brava gente mi ha aperto gli occhi oh barbaro ed un ceffone sulla sua guancia egli salzò da tavola e senza sentirsi la terra sotto i piedi senza berretto né pastrano si tracinò da vankin lo trovò in casa sei un farabutto tu si rivolse Akineyev a vankin per che cosa mi hai infangato davanti a tutto il mondo per che cosa mi hai lanciato una calunnia che calunnia che andate a inventare e chi ha spettegolato dicendo che ho baciato marfa non sei tu mi dirai non sei tu brigante vankin prese a batter gli occhi ed ammicchiare con tutte le fibre del suo viso frusto alzò gli occhi all'immagine e proferì che dio mi castighi che i miei occhi possono scoppiare e io restare stecchito se ho detto anche una sola parola di voi che io non abbia più né letto né tetto sarebbe poco il colera la sincerità di vankin era fuori dubbio evidentemente non era stato lui aspettegolare ma chi è dunque chi si dia da pensare Akineyev passando in rassegna nella sua memoria tutti i propri conoscenti e battendosi in petto chi dunque chi dunque domanderemo anche noi al lettore chiunque